ognuno di noi ha delle idee per farle crescere c'è bisogno di impegno di conoscenza la tua idea racconta di te è la tua identità il tuo sogno le idee da sole non bastano proteggi la tua idea con marchi e brevetti difendi la proprietà industriale non rinunciare informati uibm.gov.it